Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, finalmente rivelato il nuovo e ultimo archetipo di Wild Survivors che oggi andremo a vedere, prima di iniziare voi sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornate un mondo di Yugi, mi raccomando ragazzi, grazie mille e andiamo a vedere Vankish Souls VS allora, Vankish Souls vs Razen possiamo utilizzare solo il primo e il secondo effetto e non possiamo attivare nella stessa catena ok, se questa carta viene evocata normalmente o specialmente aggiungiamo un mostro non guerriero Vankish Souls dal deck alla mano effetto rapido possiamo rivelare il mostro appropriato, uno più mostri appropriati per attivare uno dei seguenti effetti fuoco, questa carta non può essere distrutta dagli effetti fuoco, oscurità, distruggiamo tutti i mostri nella stessa colonna di questa carta ok, può essere molto interessante perché ti fa sia da... sia da Dino che da interruzione e non devi rivelare i mostri Vankish, quindi fondamentalmente potete buttarli dentro mi sa ad altri deck, perché se tutti vogliono un... un... rivelare mostri possono essere inseriti in altri mazzi ci potete fare i mischioni Vankish Souls vs Pantera questa terra ogni effetto una volta per turno non possiamo utilizzare nella stessa catena se non controlliamo mostri nella zona vostri main possiamo specialarla effetto rapido riveliamo i mostri appropriati per attivare uno dei seguenti effetti terra, non può essere distrutta in battaglia terra e fuoco distruggiamo tutte le carte magia e trappola nella stessa colonna ma... Vankish Souls vs Heavy Borg in realtà le artwork non mi stanno facendo impazzire al momento si è bloccato tutto? si è bloccato... ok allora ogni effetto una volta per turno non nella stessa catena durante la main phase effetto rapido targettiamo una carta mostro non macchina che controlliamo lo rimbalziamo in mano e se lo facciamo specialiamo lei effetto rapido possiamo rivelare i mostri appropriati per attivare uno dei seguenti effetti dark peschiamo una carta terra e fuoco infliggiamo 1500 all'oppo ok già il fatto di rivelare dark peschiamo uno comunque non è male poi ovviamente questi qua li potete piazzare in altre idee che sono potete evocarli tranquillamente senza magari il loro effetto poi Vankish Souls vs Dottor Mudlove se viene evocato specialmente aggiungiamo una magia o trappola Vankish Souls dal deck alla mano effetto rapido riveliamo ovviamente gli effetti non nella stessa catena riveliamo un dark un mostro scoperto dell'oppo perde 500 attacco e difesa un dark e un terra e rimbalziamo un mostro scoperto sul terreno con la minor difesa alla mano in caso di parità lo scegliamo noi Vankish Souls Vankish Souls vs Pluton HG sempre le stesse meccaniche durante il turno dell'avversario se non continuiamo mostri nella zona mostri meno tutti i nostri mostri sono Vankish Souls nella zona mostri main possiamo specialare questa carta alla mano effetto rapido riveliamo il mostro se a fuoco guadagna 3000 un dark e una terra in questa carta guadagna 3000 e attacco se invece è a fuoco 3000 di difesa ok boss monster Vankish Souls vs Kaiser Varius diversi diversi Kaiser le meccaniche sempre le stesse durante la main phase effetto rapido targettiamo non drago e controlliamo sempre l'archetipo lo rimbalziamo in mano e se lo facciamo specialmente questa carta effetto rapido possiamo rivelare i mostri appropriati per attivare uno dei secondi effetti terra questa carta muore gli effetti attivati dell'avversario ok terra fuoco e dark spocchiamo un'altra carta sul terreno e mamma mia basta uno per essere muore a tutto trebbe spaccare una carta sul terreno senza targettare però però è forte lui è forte anche perché diventa muore il problema è che il resto non mi sembra così OP però andiamo a vedere mostro uh figo mostro link rock Vankisher mostro Vankisher Vankisher scusate link 1 attacco 0 non può essere utilizzato come material link possiamo utilizzare il secondo effetto una volta per turno mentre non togliamo dei monkey soul l'avversario non può eh carghettare con un attacco solo il mostro con il nostro attacco più alto durante la mine phase effetto rapido possiamo attivare i secondi effetti spesso andiamo un monkey soul dalla mano o aggiungiamo un mostro d'archetipo dal cimitero alla mano vabbè lui è molto buono perché ci può fare sia specialino che riciclo sorse e ci permette di prendere magari quello che ci serve da livellare dal cimitero quindi non è male se fosse stato dal deck sarebbe stato fortissimo andiamo a carta magia Vankisher dust devil targine magia rapida una volta per turno targettiamo Vankisher che controlliamo gli cambiamo la posizione in battaglia poi cambiamo eh la posizione la scoperta la coperta in posizione di difesa di tutti i mostri che l'avversario controlla vabbè non è male fino al numero di monkey soul che controlliamo con noi differenti ok quindi praticamente ti sposti uno e poi in base a quanti ce n'hai copri altrettanti mostri dell'avversario vabbè un buco of moon un buco of eclipse di dark edifico senza che l'oppo pesca monkey soul continue paghiamo 500 le più targettiamo un mostro d'archetico del cimitero aggiungiamo la mano oppure lo specialiamo in difesa buono anche questa carta trappola vankish soul trinity burst targettiamo un mostro d'archetico e controlliamo specialiamo fino a due altri vankish soul dalla mano con nomi differenti ognuno tra l'altro con differenti e attributi originali dal target ma i loro effetti sono negati ritornando le mano all'emface poi possiamo far ritornare tutte le carte della versione nella stessa colonna dei mostri evocati in mano ok dei mostri evocati ok non è per nulla male come trappola anzi c'è delle interruzioni interessanti le carte maggio trappola sono buone gli effetti mostri magari non sono il massimo però vediamo l'ultima guard no le ultime si ok c'è la ristampa dei informazioni su fuoco d'enchi l'ultima trappola che è la counter e quando l'avversario attiva una maggior trappola con un effetto mostro che targetta una più carta che controlliamo e noi controlliamo vankish soul neghiamo l'attivazione spacchiamo la carta poi infliggiamo all'avversario danni uguali a un attacco di un mostro vankish soul che controlliamo allora infine questo ti fa anche da più alto gli infliggi altrettanti allora può essere non è fortissimo però può essere interessante voglio vedere quanto può essere buono in combinazione perché se magari le combinazioni vanno a manetta potrebbe diventare abbastanza interessante come mazzo non ha negate ha solo l'interruzione che copre tutto e roba solo interruzione fondamentalmente roba che ti rimbalza in mano roba che ti fa magari specialare poi riattivare effetti dei mostri effetti dei mostri rivelando carte tipo lui fa interruzione perché spacca anche una carta sul terreno quindi allora è interessante non è fortissimo al momento non voglio dire che faccia schifo perché non penso faccia schifo perché potrebbe essere molto interessante vedere le combinazioni bisogna testarlo forse ci aspettavamo un pochino di più da questo archetipo forse quello si però dovremmo aspettare un attimino per vedere analizzare meglio detto questo ragazzi fatemi soprattutto sapere voi cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti a tutti i Grazie.